Buongiorno e buon martedì. Stamattina ho ricevuto una notizia bellissima che un mio cliente mi ha detto sai, sono stato finalmente chiamato, mi hanno assunto, è un contratto di prova, però mi piace quello che sto facendo e penso di piacere anch'io all'azienda. Ho detto dai, dai forza. Perché vi dico dai forza? Perché io sono convinta che noi abbiamo due missioni. Una è salvare noi stessi, prima di tutto. Prima di tutto dobbiamo salvare noi stessi. Dopo che abbiamo messo in salvo noi stessi, abbiamo messo il salvagente, possiamo salvare chi è vicino a noi che sta annegando. Ma solo se vuole essere salvato, tendiamoci. Questo modo di pensare, secondo me, può cambiare il mondo da così a così. Pensate quale sia la vostra missione. Pensate che scopo avete in questo mondo. Io non ci credo che il nostro scopo sia solo mangiare, cittare, no. Secondo me ci sono scopi un po' più grandi. Anche stare qua si può stare con un obiettivo diverso. Anche a cazzeggiare, anche a fare qualcosa di importante. Magari una cosa piccola può essere quella cosa grande che scalda il cuore. Buona giornata a tutti e Om Shanti, Om Shanti, Om. Namaste.